Non sono le condizioni ideali per iniziare una nuova stagione, comunque terrò a mente la vittoria contro il Grasshoppers, sicuramente ci ha dato un mucchio di fiducia, sapevamo delle tre giornate di squalifica da un bel pezzo, come ho già detto, è difficile preparare una squadra per l'Europa quando non puoi usare gli stessi giocatori anche in campionato, la partita con il Grasshoppers, importante quanto fosse, ci è servita per far giocare un poco tutti e permettergli di completare in questo modo la preparazione. Il mio compito sicuramente è complicato alle volte, oggi non sono sorpreso di avere a che fare con una rosa del tutto diversa da quella che ha giocato in Coppa, i giocatori chiamati a sostituire i sette squalificati hanno lavorato davvero tantissimo da allora, quindi direi che ho fiducia nell'undici che sabato scenderà in campo contro Nizza. Aligné samedi face a Nice.